Ciao a tutti, in particolare a Galantini e al mio amico Tommaso, il senator. E allora adesso vi racconterò una barzelletta. In una piscina di riabilitazione c'erano due triestini nell'acqua e Fritz di Camporosso. E un triestino ha detto, se ti avessi Stelio, che bella temperatura questa piscina. E ogni tanto mi arriva un getto di acqua calda, acquetta, acquetta calda, che mi fa così bene al genocchio, che non ho problemi al genocchio. E adesso lo arrivo a muovere, che sto così bene. E l'altro ha detto, anche mi ho problemi alla schiena, e sto bene in sta piscina. E ogni tanto mi viene un getto di acqua calda, acqua caldetta, caldetta proprio, e mi parte sentirmi nuovo. E Fritz, che era lì, ha detto, anche io ho molti problemi con la prostata e faccio grosse difficoltà a pisciare. Ma qui in piscina vado come un treno. Ciao! Ciao!